Claudio Zamarion, produttore di questo bellissimo film, una particolarità nella post-produzione non avete dovuto fare nessun ritocco in quanto nel territorio del Lattosangro si sono creati quegli scenari particolari che hanno consentito anche di creare degli effetti speciali proprio all'interno del film. Quando arrivamo qui, buonasera a tutti, quando arrivamo qui era novembre e dicembre, abbiamo fatto i primi giri di sopralluoghi con il sindaco Angelo Caruso, mi disse non ti preoccupare vieni a gennaio, a gennaio sicuramente ci sarà qualcosa di sorpresa per te, ci siamo fidati siamo arrivati qua e il film in questo momento ha delle immagini che potrebbero essere realizzate con Visual Effects, è vero, abbiamo avuto una tempesta di neve per due giorni, abbiamo aiutati anche da Grizzly Team che ci hanno portato nelle montagne anche in condizioni di tempo un pochettino avverse e siamo riusciti a portarci a casa delle immagini importantissime che andavano a risperchiare almeno più o meno vicino a quello che i nostri hanno patito negli anni 40 durante la lida di Russia. Quali sono state le difficoltà tecniche che avete dovuto sopperire diciamo alla realizzazione di questa pellicola? Allora, noi innanzitutto voliamo in qualche modo ricostruire quello che realmente i giovani avevano passato in quel momento, quindi abbiamo deciso di fare tante cose dal vero, però bisognava andare in alto piano, bisognava portare il mulo a girare perché con la slitta, bisognava portare tutta l'attrezzatura. Ci siamo appoggiati dalle persone sul territorio del Grizzly Team che ci ha consentito in qualche modo insieme all'esercito, perché il film vanta un partenariato con l'esercito italiano, che ci ha consentito di attraverso l'utilizzazione di mezzi militari più la parte privata siamo riusciti ad arrivare nelle location giuste che abbiamo deciso stabilite per girare le riprese. In compagnia di Manuel Micucci, un attore che ha partecipato all'interno del cast di questo bellissimo film, quali sono state le difficoltà per cercare di immergersi all'interno di una vita così difficoltosa, uno scenario così estremo? Beh, ovviamente in un film così è sempre difficile da attore cercare di avvicinarsi a una cosa del genere perché non si può mai essere quella persona, ci si può avvicinare e si può cercare giorno dopo giorno di essere un'ombra sempre più vicina a quella persona e quindi giorno dopo giorno quasi assimilarla, quasi capire cosa sta succedendo, quasi capire il freddo realmente. Infatti la parte delle condizioni atmosferiche è stata paradossalmente qualcosa che mi ha aiutato molto perché immergermi a cavallo in una condizione di freddo, di una cosa inospitale, qualcosa che la natura non ti vuole, è stato d'aiuto ma mi ha fatto capire giorno dopo giorno cosa realmente significasse per quelle persone che dopo il ciak non avevano un posto caldo dove andare a rifugiarsi o il panino da mangiare. Quindi è qualcosa che ti posso dire ti segna molto perché è qualcosa che noi non abbiamo dentro, è qualcosa che è difficile anche da ricercare. Quindi dopo che fai una cosa del genere ti rendi conto, inizi a capire cosa veramente sia, come ha detto poco fa l'Alpino, non tanto il celebrare un evento per ricordare la guerra ma per ricordare i passi che si sono fatti avanti e nonostante in questo film io facessi la parte, come dire, il comandante Vlad, quindi i cattivi nel film, posso dirti che come nel pezzo, nella canzone La guerra di Piero mi sono accorto che sono persone con divise diverse all'interno di un deserto di ghiaccio con gli ordini di uccidere quelli con la divisa contraria, ma alla fine sono persone, persone che cercano di sopravvivere e questo mi ha fatto capire quanto la guerra è pazzesca, quando la guerra è qualcosa da non ripetere, da mettere in un angolo, anzi i ragazzi di oggi dovrebbero capire, noi dovremmo capire, grazie ai sacrifici che hanno fatto gli alpini e tutte le persone che sono state in guerra, quanto la guerra è qualcosa da rifugiare, da allontanare. Quando si impersona un personaggio così particolare, soprattutto che ha dovuto vivere una situazione così complicata, all'interno della nostra mente, all'interno del nostro cuore, soprattutto da te come attore, si lascia uno strascico di quello che era il segno di queste persone che comunque hanno subito realmente? Assolutamente sì, la prima cosa che deve fare un attore è non giudicare mai il personaggio che sta facendo, quindi qualsiasi personaggio esso sia, quando tu cerchi di interpretarlo, quando tu quindi lo conosci, la prima cosa che fai è non giudicarlo, è metterti assieme a lui in quella condizione, quindi se è una condizione di freddo, se è una condizione di stenti, se è una condizione di sopravvivenza, punti alla sopravvivenza, poi al di là di quale sia la bandiera, di quale punti a cercare di portare la vita a casa o gli ideali a casa e questa è la bellezza alla fine dell'essere umani, al di là, non la faccio una questione di bandiere eccetera, siamo tutti esseri umani, siamo tutti degni di vita, siamo tutti degni di pace e la parola pace sarebbe quella meravigliosa, quella che ci dovrebbe far stare invece che in guerra accanto a brindare felici, a brindare delle diversità che poi sono quel qualcosa che ci rende uniti, che ci alimenta la curiosità. Circa 300 ragazzi questa mattina tra le scuole medie e le scuole superiori hanno potuto vedere la pellicola, qual è il messaggio che potremmo lanciare a questi ragazzi anche per avvicinarli mentalmente ad un contesto del genere? Credo che oggi sia molto difficile ovviamente avvicinare i ragazzi a una pellicola così perché comunque parliamo di un film d'autore, parliamo di temi importanti e purtroppo negli anni con le tecnologie ci siamo un po' allontanati all'attenzione, al mezzo eccetera, però qual è il messaggio? Il messaggio è dire ragazzi queste cose tremende sono accadute, questo non è un film, questo è un film nel senso è un film che parla di realtà e se questa realtà è accaduta ha fatto sì che noi oggi possiamo vivere così, possiamo vivere bene, quindi io chiederei un'attenzione da parte di questi ragazzi che sono il futuro nel dire se voi oggi non siete in queste condizioni è anche grazie a quelli che l'hanno fatto per noi, quindi rispetto per quelli che l'hanno fatto e rispetto per quelli che verranno nel cercare di mantenere la pace, dell'avere rispetto per gli altri, paradossalmente sembra banale ma nel comportarsi bene, nel volersi bene, so che sembrano parole buttate lì, le solite parole, ma è alla base di tutto, quindi nell'educazione, del senso civico, del raccogliere la carta a terra e non buttarla, è la stessa cosa lì portata all'estrema conseguenza. Grazie